Questa mamma scimpanzè pensava di aver perso il cucciolo durante il parto, ma i veterinari riuscirono a rianimarlo e ore dopo fecero rientrare la mamma nella stanza. Lo osserva con tristezza perché non sono accorse subito che era vivo, ma appena vide la mano del figlioletto muoversi, incredula se lo prende in braccio alla velocità della luce. È incredibile quanto questi animali siano simili a noi.